Amici 3B Meteo, benvenuti a questa nuova edizione del TG di 3B. Partiamo come sempre dall'immagine del satellite. Ci mostro l'Italia praticamente senza nuvole, però guardate questo sistema nuvoloso sulla Francia si sta avvicinando al nostro paese da una perturbazione anche piuttosto intensa. In effetti la prima parte di questa settimana vedrà l'ingresso soprattutto sul nord Italia di nuovi acquazzoni e temporali nella giornata di martedì, ma sarà coinvolto in parte anche il centro Italia e tra l'altro dopo una prima passata nella giornata di martedì l'atmosfera rimarrà instabile, quindi anche tra mercoledì e giovedì dovremo fare i conti con altri temporali e acquazzoni. Ma andiamo con ordine, intanto per le prossime ore possiamo stare tranquilli, tempo bello, anzi semmai il problema di oggi è la temperatura che torna salire, quindi massimi in aumento oltre i 30 gradi all'ombra in gran parte d'Italia. Però a fine giornata primi temporali all'estremo nord-ovest e martedì, guardate, temporali anche forti, significa grandi nelle raffiche di vento che torneranno a interessare il nord, dapprima il nord-ovest ma poi anche il nord-est, coinvolti in parte anche il centro Italia, soprattutto la Toscana, l'Umbria, le Marche, a fine giornata anche Sardegna e Lazio. Invece attenzione al sud gran caldo, supereremo i 35 gradi all'ombra. Giornata di mercoledì che vedrà ormai atmosfera instabile sul centro-nord, quindi non mancheranno delle belle schiarite, anzi l'inizio della giornata probabilmente sarà proprio bello, ma nel pomeriggio spunteranno nuovi temporali e acquazzoni. Per sapere a questo punto nel dettaglio se questo accadrà anche nelle vostre zone, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.